Sì, assolutamente. Anche il design olfattivo è importantissimo perché la memoria olfattiva che ognuno ha, entrando in un luogo, può rimanerti e può farti tornare o farti andare via. Quindi principalmente gli hotel. Gli hotel tendono molto ad avere la loro firma olfattiva per ricordarti quell'esperienza. Poi ci sono banalmente anche dei profumi invece che vengono veicolati nei canali dell'aria condizionata al supermercato. Non so se vi è mai capitato, ma veramente per far promozione magari al pesto, piuttosto che, ecco, questo capita, io quello non lo amo, però porta poi anche lì alla venita, piuttosto che ci sono i famosi profumi per non far dormire mai a Las Vegas quando si gioca. Quindi assolutamente sì, ci sono design olfattivi importanti perché veramente certe essenze possono portare a essere rilassati, piuttosto che invece a energia, voglia di fare, insomma, sì. Che differenza c'è? Sai che non ho mai visto così tante domande in una larga, c'è una quantità di domande che, ma te ne sto prendo così qualcuna al volo, ma ce n'è un'infinità. Che differenza c'è tra i profumi d'ambiente e quelli per la persona? Cioè la stessa cosa, ma semplicemente uno lo spruzzi e l'altro lo sbatti sulla pelle, oppure c'è uno studio diverso? Allora, in realtà diciamo che anche qua tecnicamente possono essere diversi come essere uguali, dipende dalla qualità che uno vuole mettere nel profumo per l'ambiente. Io, nella linea che facciamo, faccio esattamente la stessa qualità, quindi il profumo per l'ambiente si può usare anche sulla pelle, ma è una questione, magari perché essendo produttori ce lo possiamo permettere, perché sennò tecnicamente il profumo per l'ambiente, non dovendo metterlo sulla pelle, potrebbe avere una qualità un pochino più bassa. Il profumo per l'ambiente di solito ha al suo interno anche l'acido glicolico, che porta comunque a una diffusione più lenta dell'alcol e dell'olio essenziale. Per esempio, noi non lo mettiamo, quindi spieghiamo ai consumatori che vedranno un'evaporazione più importante subito di tutta la parte alcolica e poi rimane l'olio essenziale, però non abbiamo voluto aggiungere questa parte, che è prettamente chimica, giustamente tecnica, per avere un'evaporazione più costante. C'è un errore clamoroso che se tu a volte senti un profumo su un uomo o su una donna dici, no, questo proprio non si può fare, oppure tutto è ammesso? Secondo me tutto è ammesso, non esistono, cioè il profumo è uguaglianza, ognuno sceglie cosa mettere, come sceglie, come essere, come indossare. Poi è ovvio che magari appunto quel profumo può essere un profumo attraente o un profumo che respinge, però ecco, secondo me non ci sono profumi sbagliati, magari sono le persone che sono sbagliate. Cristiano, ma spesso.